Si tratta di decidere se andare avanti o se tornare indietro sulle libertà, sui diritti delle persone, sul lavoro, sulla questione della povertà, sulle scelte che riguardano il futuro del paese, a cominciare da quella urgentissima dell'energia e della crisi climatica. Noi siamo in Emilia Romagna dove si può ancora votare una bella sinistra rappresentata dalla lista a cui aderisce possibile che si intitola Alleanza Verdi-Sinistra, che è coalizzata con il Partito Democratico per vincere le elezioni ma che è un po' più a sinistra del Partito Democratico e non guasta. Oggi siamo qui in una bellissima giornata a Reggio, alla Ghiara, il posto da dove siamo partiti con possibile tanti anni fa ed è bellissimo ritornare qua. Tutto pieno, pieno soprattutto di tantissimi giovani e giovani che è la cosa che ci ha più riempito il cuore, tantissime ragazze e ragazze di ogni fa, sui temi che in questi anni loro ci hanno aiutato a costruire. La bellezza di questa giornata è stata proprio in un momento in cui tutti cercano i giovani per la campagna elettorale, invece portare una comunità di tanti ragazzi e ragazze proprio a portare i temi su cui loro hanno lavorato in questi anni per dargli rappresentanza dentro il Parlamento.